Musica Anche il territorio Ibleo nella morsa di pioggia torrenziale a lagamenti a Frane, in azione tutte le squadre e i vigili del fuoco del comando provinciale allertate per far fronte all'eccezionale ondata di maltempo. La situazione più critica forse nel Modicano, dove un corso d'acqua in zona di via Fontana ha travolto auto e mezzi allagato scantinati, in soccorso tutte le squadre operative del vigili del fuoco provinciale. Per l'esponente del tavolo verde Sicilia Francesco Agiello, le aziende agricole sono costrette a muoversi tra credito legale e usura. Come fa un'economia a crescere, afferma Agiello, se il credito ristagna? Le periferie di Ragusa senza illuminazione pubblica, la denuncia del Comitato Intercontrade che invita l'amministrazione comunale a provvedere alla sostituzione dei pali fatiscenti arrovinati con quelli nuovi. Marina di Ragusa da venerdì scorsa è senza il servizio 118, l'ambulanza è stata infatti spostata in alte sedi per il movimento insieme e assurdo che sul posto ci sia solo il personale medico. Benvenuto a un appuntamento con l'informazione sui eventi Sicilia e dunque anche il territorio ibleo per tutta la giornata di ieri nella morsa del maltempo, pioggia torrenziale, allagamenti, torrenti e sondati nel bilancio di queste ore, mentre sono state rinviate anche alcune partite di calcio, scuole chiuse, inoltre a Modica e Scicli, oggi è una breve tregua. Una vera e propria bomba d'acqua, quella che si è scatenata in risulterritore ibleo con pioggia torrenziale, frane, torrenti e sondati, smottamenti di arterie e scuole chiuse a Modica e Scicli. A Vittorio invece il Comune era indeciso per la chiusura o meno degli istituti, poi stante il miglioramento della situazione, le scuole stamani sono rimaste aperte con le elezioni irregolari. Lavoro straordinario naturalmente anche per vigili del fuoco e volontari della protezione civile, intervenuti per le varie situazioni di criticità che si sono susseguiti senza soluzione di continuità. Chiuse anche alcune arterie, quali la vecchia provinciale Sciclimodica, meglio conosciuta come la Stade della Fiumara, per i rischi connessi al traffico veicolare. Due frane si sono invece resistate rispettivamente sulla Ragusa Giarratana e sulla Modica Noto, per non parlare degli insegni dei cartelloni pubblicitari diverti per il forte vento, mentre alcune partite di calcio sono state rinviate per il terreno di gioco allagato, rinviata anche la partita di basket femminile tra Passalacqua e Venezia per infiltrazioni d'acqua al Palaminardi. Nelle ultime ore la situazione si è comunque alleggerita, con la pioggia praticamente scemata e che ha consentito a diversi comuni di passare dall'allerta di codice arancione a codice giallo. Oggi in mattinata cielo ancora coperto, ma la situazione rimane comunque incerta, mentre le prossime ore serviranno a fare un bilancio dei danni che il maltempo ha causato. La situazione più critica, dicevano i titoli, a Modica in queste ore a causa di un corso d'acqua che ha travolto automezzi allagato scantinati, numerose le squadre di vigili del fuoco intervenute poi dopo qualche ora a ripristinare la normalità. La situazione più critica, causata dal maltempo sicuramente nel Modicano, dalle prime ore della serata di ieri infatti tutte le squadre operative del comando dei vigili del fuoco hanno operato per ora per ripristinare le normali condizioni di normalità, dopo le piogge torrenziali e gli allagamenti. Numerosi quindi gli interventi negli scantinate garage, ma anche lungo le arterie per liberare il manto stradale da infissi vari e soprattutto dagli insegna di cartellone pubblicitari di Velti. Inoltre dalle 5.30 circa di stamani in via Fontana, sempre a Modica, si era formato un corso d'acqua che, attraversando strade e arterie, ha travolto auto e allegato case scantinate. Sul posto i vigili del fuoco accorsi in pratica da tutta la provincia per far fronte a questa emergenza, oltre alle numerose richieste. Pertanto è stato necessario trattenere in servizio il personale che doveva smontare. La situazione è poi migliorata col passare delle ore anche perché ha smesso di piovere. Poi la vicenda della gara tra Passalacqua e Venezia, rinviata al Palaminardi per infiltrazioni d'acqua, ne approfitta il PD per attaccare l'amministrazione comunale. È davvero increscioso quanto accaduto al Palaminardi, afferma il consigliere Dem Mario D'Asta. Ancora più davvero increscioso perché, come è stato possibile appunto appurare, le segnalazioni già da tempo erano state inoltrate in più di un'occasione e ci si attendeva che le stesse fossero andate a buon fine. Però nonostante ciò non è accaduto niente e Ragusa si trascinà dietro questa grave onta. Aziende agricole tra credito legale e usura. Il titolo della nota fonte di riflessione dell'esponente al tavolo verde Sicilia Francesco Aiello che si chiede, tra le altre cose, come può crescere un'economia se il credito ristagna. Nel 2016 i prestiti delle banche alle imprese sono rimasti sostanzialmente invariati. Come può crescere un'economia il cui credito quindi ristagna se lo chiede Francesco Aiello, esponente del tavolo verde Sicilia, prendendo spunto da un articolo del Sole 24 Ore dal titolo Rimettiamo in moto il circuito del credito. Per Aiello, col mondo agricolo in crisi totale da almeno 15 anni e con neanche una banca che faccia credito ad aziende in sofferenza, occorre a questo punto una politica che sappia affrontare questa emergenza, occorre rivedere i vincoli imposti dai accordi comunitari con cui è stato cancellato il credito da gare assistito e occorre ancora anche una nuova legge per affrontare su scala nazionale il tema dell'indebitamento delle aziende, nello specifico di piccole e medie imprese agricole ma anche artigiane e commerciali. Tutti fanno finta di non saperlo, continuo Aiello, ma da dove attingono le aziende delle risorse per svolgere la propria attività, naturalmente dall'usura che è prospere, coniugando le esigenze non considerate dal credito legale. Quindi occorre cambiare politica, conclude l'ex sindaco. I patti di interscambio col mondo esterno sono possibili e auspicabili ma non possono essere contratti in concorrenza clamorosa con gli interessi delle imprese agricole italiane o siciliane. Cronaca a distanza di due mesi, la salma di Palmela Canzonieri, la donna di Ragusa uccisa lo scorso novembre in Brasile, dove si trovava per lavoro, non è stata ancora tumulata. Si trova nella cella frigorifara dell'ospedale di Ragusa perché non è stata ancora eseguita l'autopsia. Non si è potuto quindi procedere alla sua sepoltura perché l'autorità giudiziaria brasiliana non ha ancora trasmesso il nulla osta per il nuovo esame autoptico. Il ragusano Enzo Buscemi, nuovo presidente provinciale di ConfCommercio, mi attende una sfida complessa, ha dichiarato al termine della votazione ma sono entusiasta di poter fornire in pieno il mio contributo. La ConfCommercio provinciale è un nuovo presidente. Si tratta di Enzo Buscemi, 64 anni, componente del Consiglio nazionale di Feder Preziosi. È stata eletta sabato scorso durante il Consiglio provinciale dell'associazione di categoria. Buscemi, che può vantare una lunga militanza tra i quadri dirigenti associativi, ha anche ricoperti il ruolo di vicepresidente di ConfCommercio e si è detto estamente soddisfatto dell'estima che gli è stata riservata. Sono entusiasta le sue prime parole dopo l'elezione, ma so che mi attendo una sfida complessa e anche convinto di poter dare a pieno il mio contributo. Dobbiamo sfruttare al meglio tutte le opportunità che il territorio ci offre dal punto di vista turistico come i siti UNESCO, senza dimenticare le notevoli potenzialità del nostro parco strutture, dal porto di Pozzallo all'aeroporto di Comiso alle grandi risorse come Fiera Mediterranea e De Maia. Ma dobbiamo soprattutto ridare fiducia a tutti i commercianti che, rimarca Buscemi, a causa della crisi sentono abbandonati dalle associazioni di categoria e in questo potrà svolgere un ruolo importante anche i commerfidi. Riprende la battaglia per la difesa dell'agricoltura e dell'economia ipparina e siciliana. In questo caso del sindaco di Acate, Franco Raffo, che oggi si trova a Gioio Ginosa, Marina, in provincia di Taranto, per prendere parte ad un'assemblea interregionale finalizzata ad allargare il fronte della lotta e condividere strategie collettive a difesa del martoreato comparto agricolo. Le periferie di Ragusa sono senza pubblica illuminazione, lo sostiene il Comitato Intercontrade che invita l'amministrazione Piccitto a sostituire i pali di velte e rovinati con quelli nuovi. Il Comitato Intercontrade ha preso atto dello stato di totale abbandono in cui versano le zone periferiche di Ragusa e quindi anche della frazione di Marina. Per questo motivo intende denunciare l'operato dell'amministrazione comunale che ha stabilito di eliminare i pali di velte e rovinati prossimi al crollo senza però prevederne la sostituzione. In parole povere, affermano dal Comitato, si sono lasciate al buio le periferie dove abitano i cittadini ragusani in modo permanente e sono decine le chiamate e sostengono dallo stesso Comitato che arrivano in sede e già sul posto si è parlato con gli operai della ditta incaricata di eliminare i pali segnalati dall'ufficio tecnico comunale. Poi la critica si parla di sicurezza ma in che modo se si lasciano le contrade al buio anche perché i pali sono tutti obsoleti e fatiscenti quindi pericolosi e un'amministrazione che si rispetti avrebbe dovuto programmare la sostituzione. Dal Comitato quindi la decisione di inviare una diffita al sindaco e all'assessore a ramo sollecitando immediatamente il ripristino dei pali in questione laddove sono stati eliminati evidenziando che in caso di danni a persone o cose gli stessi saranno adebitati al Comune. L'esame a Ragusa dove il Consiglio Comunale durante l'ultima seduta di venerdì ha approvato un ordine del giorno sul rischio sismico per aderire alle iniziative del Lanci, un tema di grande tragica attualità in cui il Consiglio non si è voluto sottrarre. Inoltre i consiglieri si sono impegnati a devolvere il gettone di presenza in favore delle vittime del sisma. È stato approvato venerdì sera in Consiglio Comunale Ragusa all'unanimità dai presenti l'ordine del giorno per impegnare l'amministrazione comunale ad aderire alle attività del Lanci in merito alle politiche di sensibilizzazione dei territori sul rischio sismico, tema quanto mai attuale col documento approdato in aula che in pratica impegna l'amministrazione Piccitto ad aderire intanto ad istituire la giornata nazionale della protezione civile, inoltre a chiedere alla stessa ANCI di impegnarsi affinché sia rifinanziato il fondo per la prevenzione del rischio sismico, di chiedere alle regioni di assegnare all'attività di prevenzione un budget annuale pari ad almeno l'1% del bilancio regionale, di coinvolgere la comunità locale sulle problematiche legate ai rischi presenti sul territorio e ancora di fissare entro i prossimi 60 giorni un'esercitazione per posti di comandi in attuazione alla pianificazione comunale di emergenza. Con questa approvazione dell'ordine del giorno sullo rischio sismico inoltre i consiglieri di Ragusa si sono impegnati a devolvere il gettone di presenza alla seduta in favore dei comuni colpiti dal sisma nel centro Italia. Marina di Ragusa da venerdì scorso è rimasta senza il servizio del 118, l'ambulanza è stata infatti spostata in altre sedi, allora interviene il movimento insieme che non ci sta e protesta e mette nel mirino l'ASP. Senza soluzione di continuità le criticità che interessano in questo periodo il mondo della sanità in provincia di Ragusa. Ultimo, in ordine di tempo, il problema che riguarda Marina di Ragusa, privata da venerdì scorso, dal servizio 118 in quanto l'ambulanza è stata spostata ad altre sedi. Sulla questione interviene in maniera critica il movimento insieme. Non è la prima volta, affermano dal movimento ragusano, che assistiamo a questo giochetto e ritaniamo, e l'abbiamo sempre sostenuto, che la presenza al servizio 118 presso la guardia medica Marina di Ragusa è di vitale importanza per chi abita e vive nella frazione, e cioè in considerazione della notevole distanza che c'è con l'ospedale del capoluogo. Gli esponenti del movimento, oltre a constatare l'assenza quindi dell'ambulanza, hanno notato ieri la presenza al personale 118, nonostante l'assenza del mezzo, cosa questa ha ritenuto assurda. Inoltre, nelle stanze la temperatura era glaceale, in quanto le pompe di calore risultavano essere guaste da tempo e nessuno aveva cercato finora di sanare la questione. Unica nota positiva, riscontrata da insieme, la disponibilità e la professionalità del medico di turno e del personale del 118, quest'ultimo anche se privato del mezzo di lavoro. Dal movimento ragusano, infine, un invito al direttore generale dell'ASP, Maurizio Ricò, ossia, anziché pensare di mettere in atto la demolizione della sanità ragusana, farebbe meglio, col buon senso, ad agire diversamente attraverso un piano di miglioramento dei servizi. Il calcio col maltempo, che era fatta da padrona anche in promozione, dove sono disputate quattro delle sette partite in calendario. Cade intanto il vittorio in casa, che interrompe la lunga striscia positiva, 1-0 contro le Aquile, vince a fatica la ragusa sul fanalino Mascaluccia. In una giornata in cui ieri era consigliabile rimanere a casa, in promozione ha vinto il maltempo. Su sette gare, infatti, tre sono state rinviate per le proibitive condizioni del campo di gioco per la pioggia torrenziale, che in pratica ha costretto l'arbitro di turno a rinviare tutta data da destinarsi. Il vittorio, che ha giocato contro le Aquile Calatine, in un campo al limite della praticabilità, ci ha rimesso le penne, castigato nel recupero da un gol originato da calcio d'angolo. E nonostante Biancorossa avesse disposto di un turno di riposo domenica per non aver giocato contro l'Adrano, escluso dal campionato, gli uomini di Guzzardi hanno disputato una prova incolore, priva di mordente, tant'è che non si è visto praticamente un tiro nello specchio della porta ospite. A Aquile, che ci hanno invece creduto fino al termine, e appunto al novantesimo, su angolo, hanno trovato con nobile il gol del colpaccio. Una sconfitta che rinfodere quindi al momento le ambizioni del vittorio in chiavo play-off e che permette all'Eubea, vittoriosa sul città di Catania, di staccarsi da Biancorossa e salire a quota 31. Vince ancora la caporista, la Ragusa appunto, contro il fanalino Masca Lucia, ma c'è voluta tanta fatica e soprattutto un'invenzione di Buonarrico sul calcio di punizione per avere ragione 2-1 dell'indomita squadra etnea. Sabato intanto si era giocata nell'anticipo una gara d'Acada finita 1-1 per una classifica oggi provvisoria e frastagliata per via delle tante partite da recuperare. A proposito della gara del Ragusa, vinta a fatica sul Masca Lucia, nel dopo partita c'era un tecnico, la Vaccara, alquanto infastidito. Purtroppo mi secca a ripetermi, ha affermato il tecnico del Ragusa, ma come ho già detto in tempi non sospetti, non esistono partite facili, per cui da qui alla fine ogni gara è come se fosse una finale. Stiamo cercando di rispettare il più possibile quelli che sono i nostri programmi per dare corpo all'ambizione di un'intera città, ma ci vuole la massima attenzione e la massima concentrazione, perché è chiaro, conclude la Vaccara, che ogni errore si paga parecchio e non possiamo concederci alcuna distrazione. Ieri a Vittoria si è svolto il nono trofeo città di Vittoria di tiro con l'arco, in campo naturalmente anche gli arcieri mediterrani, come al solito brillanti protagonisti. Organizzato dall'associazione Arcieri Mediterranei si è svolto ieri il nono trofeo città di Vittoria di tiro con l'arco, un evento sportivo ospitato presso l'accogliente struttura Marco Verde e che ha visto anche la presenza di alcuni amministratori e consiglieri comunali. Orte le previsioni, le prove dei giovani arcieri vittoriesi, dove si sono distinte nell'occasione a Marcello Giacchi, Marco Cappello e Francesco Parnice, primo posto in orte nella categoria ragazze femminile. Si è svolta la gara interregionale a Vittoria, nel calendario nazionale. Abbiamo avuto una grandissima affluenza, nonostante il tempo c'era all'arma meteo, sono venuti da Catania, da Ragusa, Messina, Siracusa, Floridia, insomma abbastanza partecipati degli atleti siciliani. Poi grazie a questa struttura che ci ha ospitato, grazie anche all'amministrazione comunale che ci dà la possibilità di fare queste gare a Vittoria per poter potenziare questo sport di tiro con l'arco a Vittoria. Una manifestazione importante organizzata ancora una volta da questa grande realtà sportiva dell'amico Pippo Carrubba che vede protagonisti di tantissimi giovani, tantissimi atleti in una bella struttura che è il Marco Verdi e diventa ancora una volta un punto di riferimento per una grande manifestazione sportiva. L'amministrazione comunale è qui presente per confermare il sossegno di questa disciplina e di questa associazione. Possiamo fermarci lì nella regia. Siamo al riepilogo dei fatti nel primo piano. Anche il territorio ribleo nella morsa di pioggia torrenziale allagamente frane. In azione tutte le squadre e i vigili del fuoco del comando provinciale allertate per far fronte all'eccezionale data di maltempo. Una vera e propria bomba d'acqua, quella che si è scatenata i re sul territorio, scuole chiuso e già modiche scicli, mentre diverse partite di calcio sono state rinviate per impraticabilità del campo di gioco. Situazione oggi migliorata. La situazione più critica forse nel Modicano, dove un corso d'acqua in zona di via Fontana ha travolto auto e mezzi allagato scantinati. In soccorso tutte le squadre operative del vigili del fuoco provinciale. Vigili impegnati quindi a liberare gli scantinati dall'acqua, le arterie da infisse e cartelloni pubblicitari divelti. E proprio a causa di questa emergenza il personale dei vigili smontanti è dovuto rimanere a prestare servizio. Per l'esponente al tavolo verde Sicilia Francesco Aiello, le aziende agricole sono costrette a muoversi tra credito legale e usura. Come fa un'economia a crescere, afferma Aiello se il credito ristagna? Col mondo agricolo in crisi da almeno 15 anni, rileva l'esponente al tavolo verde Sicilia e con le banche che chiudono le porte all'azienda in sofferenza, occorre oggi rivedere vincoli imposti dagli accordi comunitari. Le periferie di Ragusa senza illuminazione pubblica è la denuncia del comitato Intercontrade che invita l'amministrazione comunale a provvedere alla sostituzione dei pali fatiscenti e rovinati con quelli nuovi e sarebbero decine le chiamate al comitato per segnalare le suoni rimaste al buio. Dal comitato quindi anche la decisione di inviare una diffida al sindaco e all'assessore al ramo affinché provvedano e intervengano quanto prima. Marina di Ragusa da venerdì scorsa e senza il servizio 118, l'ambulanza è stata infatti spostata in alte sedi per il movimento insieme e assurdo che sul posto ci sia solo il personale medico, un personale senza quindi il mezzo con cui lavorare. Occorre quindi subito ripristinare la presenza dell'ambulanza perché i cittadini hanno un ospedale, quello c'è del capoluogo che dista parecchi chilometri, richiamata anche all'ASPA alle sue responsabilità. Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione.